Quanti sono, Lore? Nel tuo posto. Sembra uno, veri, però, al di pasta. Senti, ma scusa, ma c'abbiamo una grossa cosa qui. Chiamata mare. Con dell'acqua dentro. Sì, ma cosa andiamo a fare in mare senza armi, senza niente? Cazzo fai? Eh. Sì, ma... Poi lo sai, scusa. Niente, ti fai. Prima cosa si lavata. Prima cosa si lavata era un po' di più. È il tuo punto più disponibile. Ho la va o la spacca. Visto? Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, c'è uno scoglio, vediamo se c'è qualche polpetta. Pfff, c'è un po' di più. Ma, bra. I rimpassi sono in arrivo. Sta un po' dietro lo scoglio. Aspetti. Vieni, vieni, vieni. A parte l'acqua puoi sparare solo con le pistole, giusto? Sì, sì. Uniamoci le pistole. A cacca alla furia manco. Tutti i vieni. Vabbè, allora, regoliamoci questo bellissimo vento. Dai. Questi sono live di qualità. Cioè, dai, 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 dai. Siamo nell'acqua. Siamo a schiaccia sempre, vede. Guarda che... Guarda che non moriamo facile, guarda come moriamo facile. Cioè, non mi spingete però. Sì, non mi spingete però. Da sotto me di mano me le pugne. Me le nutri le monode. Guarda come giuota però. Che notatrice a Mila. Hai visto? Se vinciamo due, se vinciamo questa... Io non gioco mai più con voi. Non gioco mai più con voi. Ma tanto si vince perché è così. Eh, a quanto pare, guarda la safe com'è, dicono che se stiamo in acqua vinciamo. E io mi vergogno profondamente di questo tipo di partite. No, non c'è un cazzo da ridere. Non c'è un cazzo da ridere. No, no, Bibby, non fatevi vedere, andiamo giù e andiamo sotto scogliere. Dai, dai, dai. No, io... Chi è la live che ti ha detto queste domande? Noi puoi andare giù, puoi andare giù. Si puoi andare giù. Tondo, tondo, tondo. Ah, facciamo così. Se la riccavo Sikros mi compra una cartina di Yu-Gi-Oh. Basta con queste cartine. Ah, non mi vedo nessuna marchetta di una stavolta. Ok, via. Ho 9-1 Bibby, eh. Oh, mi raccomando, se vi sparano, dovete andare giù, eh. Perché giù un tanto vedono una serie. Bibby, noi siamo... Bibby, noi siamo quattro. No, che schifo. Possiamo chiudere qua questa partita a posto. Cioè, ma si può che devo giocare così? Sì, sì, no, lei infila sempre la marchetta. Prima è passata, è passata ieri in live e ha marchettato pure con lei. Sono qua sopra, eh. Non salire, Mirko. Perché sali? Si può andare da un'altra parte? Cazzo. Eh, sono... Si sale, si sale. Eccoci. Boia! Qui è va, qui è va, no, qui è esterna. A terra. Ho fatto fare un... Fatto. No, voglio la fennec, grazie. Hai visto la giocata rischiosa? Cazzo, ma ha scritto un po' di qua? Non può fare un po' di qua? Non può fare un po' di qua, tutto sul bagno! Ricarica! non mi ricarica porco tua c'è il mascherone una terra una terra sul bagno una terra e l'altra sul tetto uno muore uno contro uno non mi dire così è uno contro uno aspettalo mettili in creo non mi dire così perché so che va dinanzi io lo contro uno ho ancora un pelle di maschera pedro non è il momento stai zitto stai zitto dalle acque risorgono i vostri nelle minuti le vado ci sono c'è tutto Grazie a tutti.